Ciao a tutti, sono Lorenzo Di Ciaccio, sono uno dei co-founder di Pedius. Noi siamo nati quattro anni fa dall'esigenza di un ragazzo sordo che è rimasto coinvolto in un incidente d'auto e non è riuscito a chiamare né un'ambulanza né un carattrezzi. Da qua l'idea di usare la tecnologia per dare valore, per abilitare qualcosa che sembra scontato, che è la telefonata. Oggi abbiamo 13.000 utenti in 10 paesi del mondo, proprio ieri abbiamo aperto in Brasile, un nuovo paese. Stiamo puntando anche alla Cina perché è il paese dove c'è una buona tecnologia ma un grande problema per le persone disabili. Qual è il punto? Che da partire da questa necessità delle persone sordi ci ha fatto rendere conto e sviluppare una piattaforma che è utile anche a tantissime altre situazioni perché siamo sordi, tra virgolette, in alcune situazioni. O comunque abbiamo bisogno di fare telefonate in grandi quantità e di capire le risposte. Quindi i temi caldi che venivano citati prima erano quello dell'intelligenza artificiale, quindi collegare l'intelligenza artificiale a un call center automatico permette di automatizzare quelle che sono magari delle interviste, delle chiamate, semplicemente il reminder per una persona anziana che magari non ha configurato l'applicazione o non riesce a configurare l'applicazione, gli arriva una chiamata a casa e rientra nella sua esperienza che si aspetta. Questo è quello che può fare oggi la tecnologia, solamente una piccola parte, ovviamente ci sono tantissime altre evoluzioni che speriamo di mettere a disposizione anche degli altri.